Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. I'm cutting straight to the evidence and talking to the people directly involved, including investigators and the families of victims. Listen to My Life of Crime with Erin Moriarty wherever you get your podcast. Settembre, soprattutto per chi segue questa realtà, vuol dire X-Factor. Perché a breve iniziano le audizioni e faremo i primi commenti, andremo a scoprire questi ragazzi, poi ne faremo sempre meno. Perché, come al solito, poi piano piano i giovani che dovrebbero emergere un po' ti deludono. Poi invece ne faremo qualcuno in particolare su alcune persone che invece mantengono. Insomma, come al solito, faremo un bel confronto e io mi divertirò a fare il giudice da casa. Un giudice che dice quello che gli pare, come fosse uno di voi. E quindi, di conseguenza, molti di voi si divertono con me. E a me fa piacere, perché questo è intrattenimento. Sia chiaro, non siamo qui per giudicare. Ci sono ragazzi... Cioè, siamo qui esattamente per giudicare. Ma non siamo qui per farlo in maniera violenta o... Cioè, chi se ne frega. Ovviamente, fa sempre piacere quando un giovane si mette in gioco e quando poi va avanti, segue la sua strada. E a tutti i ragazzi che provano a fare il provino, a tutti i ragazzi che si mettono al microfono, auguro con tutto il mio cuore quello che meritano. Quindi gli auguro successo, soldi, fama, se questo lo meritano. Gli auguro invece di fallire miseramente se è quello di cui hanno bisogno per diventare poi le persone che saranno. Quindi, insomma, ognuno ha la sua strada, il suo percorso. Tutto quello che viene detto è a scopo di intrattenimento e anche un po' di sensibilizzazione. Però questo è un altro argomento. Diciamo che io penso che nella vita bisogna semplicemente essere sinceri. Se la tua sincerità porta concetti veramente squallidi, poi se ne accorgono gli altri, te ne accorgi tu. Se invece la tua sincerità è costruttiva, allora sì, io la chiamo poemica. Tra la polemica e la poetica. Ma questo è un altro discorso che affronteremo. X-Factor 2022, un franchising di Fedez e direi anche di Chiara Ferragni perché Chiara Ferragni è dietro. Fedez è tutto ciò che accade. Ormai fanno solo post sponsorizzati, possibilmente con i figli. Può sembrare una critica questa e invece non lo è. Cioè è una critica dal punto di vista che veramente ci stanno personaggi appunto come Fedez e la Ferragni che hanno un audience talmente grande anche solo proprio come privati, come account Instagram che coprono un bacino di utenza superiore a una trasmissione televisiva in sé. E questa è la cosa incredibile. Per questo motivo è stato scelto proprio non solo come giudice, ma andate a guardare oltre, ma come direttore artistico ragazzi. Quello che è successo a X-Factor negli ultimi anni è la prova che il settore televisivo non può più contare unicamente sulle sue forze. Sulle proprie forze. C'è stata l'edizione del lockdown. Una bellissima edizione che abbiamo seguito qui sul monologato, sul vecchio feed che poi è cambiato a causa ban, ma gli episodi ci sono ancora. Ed è stata un'edizione bella, divertente, emozionante perché eravamo tutti chiusi in casa. Bellissime cover, ci fu la grande critica da parte mia, Blind, che poi arrivò tra i primi quattro, ricevetti la Shitstorm. Personaggi come comunque Martina che a loro modo continuano ad andare avanti. Il problema però di quell'edizione fu che, a parte diciamo un Blind, che comunque poi con gli anni è sempre a scendere, fino all'Isola dei Famosi addirittura, non ci sono stati artisti che poi hanno avuto quell'esplosione, quella vendita e quel durare in stile Marco Mengoni per intenderci, in stile Noemi, ma anche in stile San Giovanni per quanto riguarda amici. X-Factor non sforna più talenti, fino a che sei lì un pochino si va avanti, ma poi alla fine non è un trampolino di lancio, bensì è una vetrina momentanea che poi ti abbandona letteralmente, proprio ti lascia senza niente. E ti toglie anche la possibilità poi di fare l'artista davvero, perché prima che emergi puoi farlo, una volta che sei emerso le porte sono chiuse, sigillate, non si riaprono più. E allora bisognava trovare una soluzione, perché altrimenti il programma falliva, comunque al pubblico piace vedere la persona che parte da zero e va avanti, ma soprattutto bisogna avere credibilità, se nessuno emerge anche la qualità si abbassa. E infatti l'anno scorso abbiamo avuto una delle edizioni peggiori, ripenso dopo quella in cui c'era Sfera e Basta, che Sfera aveva fatto il suo, però purtroppo quell'edizione non se la inculò nessuno. E l'anno scorso, secondo me, c'è stato proprio un complotto. Hanno mantenuto i giudici, proprio perché l'edizione precedente fu bellissima, senza, diciamo, stare a guardare i lati negativi, no? Hanno mantenuto i giudici, vabbè, hanno aggiunto mica, insomma, hanno fatto una mossa autodistruttiva. Anche la selezione dei ragazzi che sono stati provinati, eccetera, la qualità era relativamente bassa in media. C'erano personaggi di grande qualità come Erio, che però a livello di commerciabilità non è un prodotto che può essere lanciato, diciamo, non è un prodotto da talent show. Fortunatamente un ragazzo con un'intensità del genere e con un brano meraviglioso, che come il suo primo inedito, comunque ci ha intrattenuto e via dicendo. Ma anche Gian Maria, che secondo me avrebbe spaccato tutto quando tu esordisci con i suicidi, con quel brano bellissimo, e lo stampi in faccia alla gente, ecco, uno si aspettava poi l'esplosione, l'ho definito il pip italiano. Però la verità è che poi, nonostante abbia mantenuto quel mood e abbia anche portato dei brani di buona qualità, non è riuscito ad andare avanti, perché comunque non è riuscito a eguagliare poi quel livello lì raggiunto con quel singolo. Però l'edizione è stata un flop pazzesco proprio, un'edizione che la gente ha seguito col mal di pancia, sì e no, poca roba, e quindi di conseguenza serviva un cambio netto, un cambio radicale, alla base. Non solo servono nuovi giudici, non solo servono nuovi personaggi, ma serve qualcuno che riparta proprio da zero. Fedez è perfetto, che Fedez sta facendo proprio da direttore artistico, ufficiosamente. Immagino che abbiano dei contratti anche a livello proprio di immagine, cioè che adesso i profili di Fedez e della Ferragni saranno settati lì, e questo ti porta un'audience immensa. Non solo, ha scelto il suo team, ha scelto Darjean D'Amico che lavora con lui, Darjean D'Amico è un grande, è uno che è fortissimo, non è solo dove si balla, Darjean D'Amico ha la testa, è una persona molto intelligente, è molto sensibile, che come giudice è perfetto, ma non solo, ma è anche uno showman, è uno showman che però porta la qualità, non è un pagliaccio, è uno che quando parla di musica, parla di vita, parla di una tematica, con ironia, ti dice un qualcosa da cui tu puoi solo imparare. A me il Sorcomi, che è un altro che ha una grossa fanbase, che secondo me magari farà un po' fatica, perché comunque è un ruolo, quello del giudice, difficile, lui è giovanissimo a quell'età, però è un ragazzo educato, a modo, un ottimo artista, ed è un ragazzo che quando parla, parla poco, ma quando parla dice sempre cose sensate, quindi farà la sua porca figura, e anche lui è una fanbase immensa. Ambrangiolini, perfetta, cioè proprio ci voleva, ci serve sempre una ragazza in stile Emma Marrone, che diciamo, ti parla con leggerezza, e dico questo per non dire altro, ed è perfetta lei, che tutta la vita che fa televisione, insomma io ho un, diciamo per il suo essere, personaggio televisivo, ho rispetto. E poi abbiamo la Michelin al commento, come presentatrice, altra cosa fondamentale secondo me, cioè un artista di qualità, una professionista seria, che appunto presenta, perché non si può mettere un giovane attore esordiente, come quello dell'anno scorso, bravo ragazzo, ha fatto quel che poteva, ma quel che poteva non era sufficiente, tutto qua, non possiamo passare da Cattelan, che ragazzi, Cattelan è un grande, Cattelan è un big, non è, cioè, passiamo da lui, a un ragazzo che ci prova, fa il suo, ecco. Comunque, niente da dire al riguardo, se non che appunto Fedez è preso in mano, questo cazzo di X Factor, e secondo me ci sarà un grande salto di qualità, anche per quanto riguarda, le scelte dei concorrenti, perché Fedez, c'ha una certa visione, X Factor è un programma, che sceglie dei ragazzi, per poi poterne lanciare, almeno due, barra tre, almeno due però, e questa volta, insomma, al di là di chi saranno i giudici, al di là di questi ragazzi, dove andranno, diciamo, e chi sarà a giudicarli, ci sarà la direzione artistica di Fedez, che rappresenta tutto l'universo delle, della discografia musicale, delle major, quindi, io mi aspetto una grande edizione, un'edizione pazzesca, di, di un livello alto, da ogni punto di vista, un'edizione commerciale, commerciabile, che non vuol dire, edizione di merda, dove ognuno dovrà fare le pagliacciate, bensì, un'edizione in cui, si farà pop, certo, perché è un programma mainstream, perché è un programma pop, ma che si farà di qualità, e ci serve, ci serve anche quello, anzi, se noi rialziamo, l'asticella della musica mainstream, e la facciamo veramente di qualità, vedrete che, poi anche, ci sarà più spazio, anche per, la musica indipendente, e soprattutto, mi aspetto uno show, degno di, di questo nome, ovviamente, eh, personaggi come Fedez, hanno bisogno di altri personaggi, che li, che alzano il livello, diciamo, intellettuale, e c'è Darjen, cioè, c'è una risposta a tutto, laddove ci sono i limiti, c'è il controbilanciamento, quindi, aspettative alte, preparatevi, perché commenteremo, non dico tutto, perché neanche possiamo fare i fanboy, ma commenteremo, ciò che merita di essere commentato, qui, sul monologato podcast, clicca segui. Fuori fa buio, e un fuoco acceso suona sotto un cielo stellato, è qui, che nasce Notte al Falò, il podcast voice, che ogni settimana propone un dialogo intenso, e spesso sorprendente, con alcuni di più conosciuti cantautori italiani, è un momento per scoprire artisti, e persone sotto una nuova luce, e verificare, se davvero, le canzoni sono più belle, di chi le fa, io sono Nicolò Agliardi, cerca Notte al Falò, sulla tua app di streaming preferita. Grazie.